Una me la collo, anche perché dà una marea che non ci gioco. Tu, 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 tu. Duro 50 giorni, minimo. Allora, fammi vedere il volo. Chiba, eh? Mi serve il medikit. Dov'è il medicic? Eccolo. Iniziamo col medikit. Medikit. Acqua. Qui prendo tutto quello che mi viene sotto mano. Questo. Importantissima Dolores. Ancora acqua. Chiba. Questa camera è finita, non mi serve più un c***o. Lì c'è il lucchetto. Mi servirebbe pure l'armonica, in realtà. Questa è ottima per non farli impazzire. Questa va benissimo. Acqua. Lucchetto. Qui pure possiamo fischiarla, questa camera. Acqua. Dimmi. Cibo. Devo prendere quella col trombone. Questo. Questo. L'armonica dove c***o è? Fucile. Maschera antigas. Carte. Ce la faccio? L'armonica non ho preso. Vabbè, per fortuna che ce l'ho qui. Non funziona questo qui. Giorno 1. Oh, ti posso dire? Abbiamo trovato i proiettili. La mappa non serve un c***o in realtà. Abbiamo il manuale. Abbiamo la maschera. Abbiamo le cose per non farli impazzire e per scambiare. Abbiamo il lucchetto. Abbiamo il medikit. Abbiamo l'insetticida. I proiettili. Il fucile. Oppure un bel po' di acqua e cibo. La radio in realtà è 50-50. Perché la radio, a volte, quando vai a prendere le cose che ti chiamano il radio, se te c***o lì e ci perdi cose. Quindi in realtà è una c***a la radio. Cioè, in realtà, dipende. Non è che sempre win la radio. Allora, ovviamente ancora qui nei suoi grossi problemi. Allora, secondo me, non dobbiamo fiddare i ragazzi. Perché ci f***o tutte le provviste utili per i genitori. Tra tutti i parenti che abbiamo, adesso c***o... Peccato che non abbiamo una sua foto. Forse sì. Ok, proviamo a usare libri. È il manuale dei Boy Scout. Sperando che non lo distruggono. Ok, non l'hanno distrutto. E che abbiamo trovato? Un c***o. Perfetto. Ottio. Allora, sono tutti disidratati. Devono tutti bere. È una boccia d'acqua e volata già. Cos'è questo rumore? Sembra una caccia. Salviamo le provviste. Vabbè, salviamo le carte. Guardi, qua già avevamo perso una tra... Ha lagato tutto, ma mi sa che non ha fatto grossi danni, per fortuna. Ah, qui stanno tutti ok. Non avremmo immaginato scarafaggio danzare. Vabbè, usiamolo dall'insetticida. Farfalle nello stomaco, dammi l'insetticida. Puoi ridisegnare il mondo, dammi una matita. Solo che ce lo siamo già sfanculati. Vabbè, peccato. La radio non ce l'abbiamo. Questi ancora non devono mangiare. Mi sa che è il giorno 8, devono mangiare. Giorno 7, mancano 43 giorni per la bet. Ragazzi, cercherò di essere il più bravo possibile. Questa magari andrà pure su YouTube, se riesco. In questi tempi, quando sentiamo bussare la porta, entriamo nel panico. E quel tizio dice... Quanto valgono due scatole di zuppa in palio ora come ora? Guarda, io ti dico, due scatole di zuppa ci fanno molto comodo. Tanto per non impazzire ci abbiamo la dama. Quindi di base possiamo tranquillamente usare la dama. Va bene uguale. A meno che non ci hanno... Caspita, il tipo deve aver barato. Abbiamo perso e prima che potessimo abiettare era sparito con le nostre provviste. Meno due zuppe. Per la doccia usiamo i proiettili. Mi dispiace ma ci sta andando proprio tutto male in questa run. Qua, ti dico di più, si fa una grande cosa. Sfidate. Ci sta andando tutto male. Fatto palesemente apposta. Mandiamo Dolores che è sempre calda con la maschera antigas. Anzi no, sai che ci mando Timmy? Che tanto è inutile, frate. Parliamoci chiaro. Vediamo da bere a tutti. Franne a Timmy, ovviamente. E li devo pure far mangiare. Vai Timmy, vai. Vai. Vai e portaci un po' di provviste. Per favore. Allora, stagmattina appena svegli abbiamo sentito il gocciolare. Con liquido verde abbiamo tappato quel buco, non sarebbe stata una cattiva idea. Se col manuale in teoria sappiamo come farlo. Quindi vediamo. Qualcuno sta bussando. Abbiamo poro di aprire, ma potrebbe essere una buona notizia. No, saremo belliati di accogliere qualsiasi volta amico. Siamo abbastanza sicuri che ci fossero raggiunti... Vabbè, qui è una 50-50. Apriamo o non apriamo? C'è capitato prima un evento sfortunato. È impossibile che pure questo sia sfortunato, regà. Dai, proprio per logica, per probabilità. Karma. In questo gioco il karma esiste. I 50-50 sono quasi scriptati che se uno va male l'altro dopo va bene. Abbiamo recuperato le nostre zuppe. Perfetto. Ottimo. Ed però ha bisogno di mangiare. Eh, facciamolo mangiare allora. In realtà, che Mary Jane si sia ammalata è un'ottima notizia. Col cazzo che la curo. Perché Mary Jane da ammalata, sapete cosa può diventare? Devono tutti bere e mangiare le donne. No, Mary Jane non deve bere. No, sì, deve bere. E mangiare solo Dolores, allora. Il trattore viola può diventare da ammalata. Ma ovviamente è una piccola possibilità. Dream, dream, credevamo non aver sentito... Sarà stata la capire sulla sala. Forse bisognerò rispondere. Vai, vai Mary Jane, vai a rispondere. Prenditi tutte le radiazioni possibili. Diventa un trattore viola, per favore. Beh, ti ho visto. Non sei iscritto ancora al canale. E non provare a schipparmi. Devi iscriverti. E ricordati di bere 10 litri d'acqua al giorno. Così muo... E io godo. No, non è diventato un trattore viola. Erano sopravvissuti, ok? Non ce ne frega un cazzo. Allora, Mary Jane deve mangiare. Qualcosa non quadra, vediamo. Era un zio del ventilatore. Sono urla inferiore. Dolores, inserito... Che strano, sarebbe un po' parlare con lei. Parliamole, parliamole. Cioè, parliamole assolutamente. Anche perché se no impazzisce da sola. Allora, il fatto che non abbiamo l'armonica mi dà molto fastidio. Perché i banditi poi ci scasseranno il cazzo. Allora, qui mi sa che siamo tutti ok. Ci hanno fatto i sediti bizzarri. Non abbiamo la mappa, quindi ce la prendiamo nel culo. Ma una domanda, sorge spazz... È arrivato Ted. No, sì, come si chiama? Timmy. Ma Timmy ha trovato una zuppa. Due acque e una radio. Bravo! Bravo! Ultimamente Ted e Mary Jane non fanno altro che discutere. Ci stanno dibattendo sui personaggi dei film. Peter Pan... Allora, qui non bisogna dare... Qui è una cosa tipo che tu pensi che devi scegliere per forza. Ma qui in realtà non devi scegliere nessuno per non farli litigare e impazzire. Quindi la lasciamo così. Tanto non deve mangiare bene nessuno. Perfetto. Timmy si è rivelato ottimo qui, eh. Allora, qualche provvista X ci farebbe comodo. Abbiamo dato un carriamo e andassimo a spezionarlo. Vai, Timmy! Ti sei già dimostrato un grandissimo ragazzo. Allora, aspetta. Disidratazione... Tutti tranne Timmy. Mentre l'inedia ce l'hanno Dolores Ted, Mary Jane e Timmy. Beh, oddio. Forse Timmy che va non lo posso... Facciamolo mangiare, dai. Non abbiamo trovato un cazzo, raga, me sa. Non abbiamo trovato proprio un cazzo. Deve bere Timmy. Ah, ce l'abbiamo la radioattiva. Perfetto, questo è ottimo. Allora, nuovo comunicato dall'esercito. Quindi è collegato, mi sa. Devono capire che dove ci troviamo per farlo dobbiamo aiutarli lasciando segni distintivi vicino a rifugio. Presidente, questi segni dovrebbero essere carte, carte da gioco. Non è strano, non ce l'ho detto... No, col cazzo, raga. Le carte me le tengo. E in più ti dico, noi non stiamo a fare la run che vogliamo essere salvati. Anche se qui nelle task ce l'abbiamo, ma non vogliamo fare le task, noi. Noi vogliamo resistere il più possibile. Non le frego un cazzo, ho capito? In realtà. Più secchi... Vabbè, sì, usiamola. Usiamo, usiamo radio. Siamo relegati in un rifugio minuscolo e le nostre provviste sono limitate. Se vogliamo sapere, dobbiamo fare il riparo. C'è un gruppo di persone insieme che si nascondono... Eh... Sì, qui proverò a fare l'infamata, anche se so che ce la prenderemo nel culo per il karma, ma vediamo un attimo. Vedo tanta acqua. Abbiamo trovato quattro bocce d'acqua. Il problema rimane il cibo, che mo' per il karma non troveremo, ovviamente. Timmy ha visto il suo vecchio telescopio in un mucchio di macerie dall'altro lato della strada. Si è emozionato da lì di sorparire la strada. Dopo tutto, cioè, dovremmo far uscire i Timmy. Beh, oddio. Non è che si ha messo... Allora, disidratazione, tutti tranne Timmy. E mangiare, Ted e Timmy. Io non lo farei uscire, perché comunque il giorno 21 le radiazioni ancora sono belle hard. Ma se no, tanto è inutile Timmy. Guarda, non gli do manco da mangiare, lo faccio uscire. Meno siamo, meno provviste usiamo. E questa è la mentalità. Sacrificare il sacrificabile, bro. Timmy è ritornato, stanco ma molto felice. E non è manco malato. Allora, devono mangiare le donne, Timmy. E bere Timmy. Non c'è niente di più di tanto il silenzio. Provare a ripararla. Ma mica è rotta. No, no, no. Questa è bait. Poi è rotta. Ho sbagliato, porco. C'è la capoccia di Timmy che copre tutto. Ma non è rotta, regà, in realtà. Ho fatto bene. Sono un fenomeno. Saremmo anche al sicuro qui dentro. Ma non c'è un'altra questione. Solo riesce a dormire. Altrimenti si... No, no, no. Il medikit non lo uso per sta cazzata. Mi dispiace. Ammalatevi. Fate quello che volete. Diventate pazzi. Ted è diventato pazzo. Porco. Vabbè, allora. Ok. Cos'è? Abbiamo trovato tutti i remodi. Se fosse un roditore. Beh, se così... Allora, aspetta. In realtà qui quando c'è la cosa del topo... Io potrei organizzare un'altra spedizione al giorno 25. Me la sento. Dolores deve andare a sto giro. Quella del topo... Io non lo sparerei. Andiamo giusto a una spedizione. Non è cambiato nulla. Ah, il topo ci ha inculato una zuppa. Io gli dovevo spararlo, sapevo. Dolores con la maschera. Allora, deve bere e mangiare Ted. Bere Mary Jane. Raga, abbiamo finito le zuppe. Servirebbe un miracolo. Questo perché ho voluto far la run con tutti. Lo mangia ai bambini e bere Timmy. Salvo Mary Jane. Almeno diventa un trattore nel caso. C'è un grosso problema. Ted è diventato ancora più pazzo. Tizio è avvicinato. Adesso deve essere un extra geniere. No, 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 no. Quanto l'acqua ce l'abbiamo. Perché dobbiamo rischiarci? Timmy muore. Adesso è morto. È ancora vivo. Però non ha mangiato. Com'è possibile? L'ho comunicato all'esercito. Dovremmo capire che dove ci troviamo per fare... No, non lo farò sta roba. Non lo farò. Dai Timmy muori e non rompere i coglioni. Non muore. Raga, è immortale sta run. Quando abbiamo cambiato il canale dell'arte siamo... Ascoltiamola. Allora, io credo di avermi stato il giorno di dove dove non bere. Ah, sono tutti disidratati. E Ted deve mangiare. Ma non ho per nulla... Vabbè, Timmy tanto è inutile che spreco. Gruppo di persone. Farai. Godo, Timmy. Ma te ne affanculo. Devono mangiare. Però siamo stati sfigati col topo e con quelle due cose che ci hanno inculato. Cioè, poco da fare. Cioè, il cibo qui non c'entriamo niente noi. Noi siamo... Dolores è morta, ragazzi. È finita la run. Mando Ted in missione. Non so cosa fare. Cioè, odioso sta cosa comunque. Vai, Ted. Mando Ted e non Mary Jane perché se non mangia... Vedi, Mary Jane è morta. Che sfiga di merda. Sì, però che sfiga, ragazzi. Cioè, io ecco perché non gioco a sto gioco. Perché se ti capita la run scriptata, lo capisci. Dai primi dieci round e poi la devi cambiare. Cioè, che so, fa così almeno. Ho provato a salvarla, ma poi Dolores che muore a caso. Vabbè. Vabbè, tutto sbagliato in sta run.